Grandissimo ritorno per Fratelli Rossetto perché mancavate da un po' giusto? Raccontaci un po'. Mancavamo da sei anni dopo che siamo stati qui dalla prima edizione adesso abbiamo deciso di ritornare con questa installazione che ricorda un po' idealmente un grattacielo dove abbiamo portato una selezione di alcuni pezzi della nostra collezione quello che vediamo qua è una versione del moccasino Brera il nostro moccasino coi fiocchetti che fin dal dopoguerra manteniamo sempre in collezione rinnovandolo di stagione in stagione. Abbiamo creato questo fil rouge di cuciture in punture a mano sia a dritte che a zig zag in contrasto sia sulle suole che sulle tomaie sia in una chiave formale quindi suola di cuoio classica che in una chiave più sportiva con anche una nuova suola sneaker molto voluminosa come sono le tendenze del momento. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!